Attacca barrage in Tanova, Kakovka, cria onda di critiche a Russia, l'Occidente. Prende il via a Bruxelles la Green Week, dibattiti e conferenze sulle politiche ambientali dell'Unione Europea. Francia in poche in piazza per la quattordicesima e probabilmente ultima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Scontri a Tolosa e Parigi. L'attacco alla diga di Nova, Kakovka, ha provocato un'ondata di condanne internazionali, con la maggior parte dell'Occidente che ha dato la colpa alla Russia. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, lo ha descritto come una nuova dimensione della guerra. Il segretario generale della Nato, Ienna, è importante che si tratta di chiarire in questa domanda. E questo è anche qualcosa che si tratta di molti problemi che abbiamo visto in Ucraina, che sono stati russi. Anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è espresso contro l'esplosione in un incontro con gli alleati della Nato. La distruzione del Kakovka, oggi, mette di mili di civili a rischio e causata un'ingegrazione sviluppo ambientale. Questo è un atto straordinario che dimostra ancora la brutale della guerra di Russia in Ucraina. In un tweet, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha affermato che la distruzione della diga si qualifica chiaramente come crimine di guerra, aggiungendo che la Russia sarà chiamata a risponderne. Il Kremlino, invece, incolpa l'Ucraina, affermando che la diga è stata bombardata in un atto di sabotaggio. Le immagini sono impressionanti. Un fiume d'acqua debordante si propaga senza freni dopo il cedimento della diga di Nova Kavkovka, in Ucraina, bombardata nella notte. Siamo sulla sponda sinistra del fiume Dnieper, in zona controllata dai russi. L'altra sponda è sotto il controllo delle forze ucraine. Su entrambi i lati del fiume sono in corso evacuazioni. Oltre 30.000 persone sono minacciate. I russi, in un primo momento, hanno parlato di cedimento strutturale, poi hanno accusato gli ucraini di aver attaccato la diga. Lo stesso hanno fatto questi ultimi, dicendo che i russi l'hanno bombardata per bloccare la controoffensiva, impedendo alle forze di Kiev di passare il Dnieper. La diga regolava il flusso d'acqua verso la Crimea del nord e soprattutto verso la centrale nucleare di Zaporizia, in queste ore, osservata speciale. L'acqua, infatti, è necessaria al raffreddamento dei reattori, il cui stato di salute è al centro delle preoccupazioni della comunità internazionale fin dall'inizio dell'invasione russa. Russian e Ukrainian officials are signalling the start of the Ukrainian counteroffensive, says the Institute for the Study of War, adding that it will not attempt to assess at this time whether or not these gains are part of broader counteroffensive operations. Now, the think tank says it observed an increase in combat activity in different sectors of the front line, but will not speculate about the intent, weight or focus of Ukrainian counteroffensive operations. The UK Defence Ministry also states that over the last 48 hours there has been a substantial increase in fighting along numerous sectors of the front, including those which have been relatively quiet for several months. Ukraine's Deputy Defence Minister Hanna Maler said a Ukrainian offensive is taking place in several directions, heightening speculations that a major push by Kyiv to recapture land held by Russia's occupying forces could be getting underway. Now, in the east, Ukrainian forces made limited advances north and southwest of Bakhmut. Maler reported that Ukrainian forces advanced 200 metres to 1.6 km in the direction of Orichovu, Vasilyvka and 100 to 700 metres near Ivanovsky and Klesievka. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Colonel Sergei Cherovaty reported that mechanised Ukrainian forces also advanced from 300 metres to 1 km in the direction of Zaliznyanskia and Bogdanovka. Ukrainian forces also continued ground attacks in western Donetsk and eastern Zapurizhia regions and made further limited tactical gains. The Institute for the Study of Warsaw's geolocated footage indicates that Ukrainian forces likely advanced southwest of Vylyka, Novosilka and within 1.5 km northwest of Storozheva. The think tank assesses a successful counter-offensive operation may take days, weeks or even months before its outcome becomes fully clear, during which time Russian sources may falsely claim to have defeated it. This martedì la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato Mosca a versare i 40.000 euro a Navalny come risarcimento danni morali. Per il Tribunale di Strasburgo, Mosca è colpevole di non aver aperto un'inchiesta giudiziaria adeguata in seguito all'avvelenamento di Navalny avvenuto nell'agosto del 2020. Sava Sanir non è stato tenuto conto di un possibile movente politico né si è indagato sul coinvolgimento di agenti di Stato. In quell'occasione per Navalny, che fu curato a Berlino, fu diagnosticato un avvelenamento grave da Novichok, un agente nervino. La Green Week è l'appuntamento annuale in cui l'Unione Europea mette in mostra i suoi progetti e le sue politiche ambientali tramite dibattiti e conferenze. Al centro della discussione quest'anno la sfida per un mondo neutro dal punto di vista climatico, in cui cioè tutte le emissioni di gas e clima alteranti prodotte vengono assorbite. I rappresentanti politici presenti sottolineano la necessità di cambiare mentalità e soprattutto di coinvolgere i cittadini nella transizione ecologica. Alle conferenze hanno partecipato anche molti rappresentanti di aziende private. Il loro obiettivo è raggiungere un equilibrio tra l'impegno per il clima e la realizzazione dei rispettivi business. Ormai la domanda nell'Unione Europea non è più perché impegnarsi in favore della neutralità climatica, ma piuttosto come fare per raggiungerla. Quattordicesima giornata di mobilitazione in Francia contro la riforma pensionistica passata per decreto il 20 aprile. Sotto legida dei principali sindacati, migliaia di persone hanno sfilato a Parigi e in altre 250 città francesi. Scarsa l'adesione, massiccio il controllo esercitato dal Ministero dell'Interno che ha mobilitato oltre 10.000 agenti per quella che potrebbe essere l'ultima sfilata dopo mesi di proteste. La riforma innalza all'età pensionabile dai 62 ai 64 anni è stata pubblicata in gazzetta ufficiale e sarà esecutiva gradualmente dal primo settembre. Nei mesi scorsi ha visto una mobilitazione popolare contro massiccia e a tratti violenta. Le sirene dell'Arabia Saudita hanno ammagliato un'altra stella del pallone dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Nasra. È il turno del pallone d'oro Karim Benzema che ha appena dato l'addio Real Madrid dopo aver alzato 25 trofei con la maglia dei Blancos. Ci sono molto meglio. comunità generale e generazione Z. L'Arabia Saudita sarebbe anche valutando una candidatura congiunta con Egitto e Grecia per ospitare i mondiali di calcio del 2030 anche alla luce del successo del vicino Qatar che ha ospitato il torneo lo scorso anno. Su questo la FIFA si pronuncerà a settembre del prossimo anno. Grazie a tutti. Una nuova sfida per Karim Benzema, il campione che appena ha detto addio a Real Madrid sta per buttarsi in una nuova avventura saudita. Il pallone d'oro indosserà infatti la maglia dell'Altiad. Con la squadra di Jeddah l'attaccante francese giocherà nello stesso campionato in cui milita l'ex compagno di Cristiano Ronaldo che incontrerà nel derby. Benzema ha fermato un contratto triennale da 200 milioni netti.